Ciao ragazzi, bentornati oggi in un nuovo video qui sul mio canale oggi voglio portarvi quella che è stata la mia esperienza con Maximan Footbird Day una carta che mi aveva incuriosito tanto anche visti quelli che erano stati un po' i feedback delle persone con cui sono più a stretto contatto e vari holly soprattutto, anche da Agnolf ho deciso di provarlo in posizione esterna e in particolar modo è andato a sostituire Manettoti con il quale dopo vi andrò a fare anche un paragone allora partiamo innanzitutto da quello che è stata la mia esperienza con questo Maximan vedete a schermo 20 partite, 11 gol, 8 assist sono assolutamente delle stats positive per un esterno considerando anche il fatto che l'ho utilizzato in posizione di ala sinistra in partenza di conseguenza non era neanche a full chemistry ma insomma non è un problema per una carta del genere tanto l'unico deficit che va ad acquisire è semplicemente quello di non ricevere il pieno boost dallo stile intesa che già, sapete bene, non è questo grandissimo boost insomma il prezzo di acquisto è stato sul milione e 3 circa e l'ho provato anche tanto in amichevoli ho fatto degli amichevoli soprattutto contro holly quindi insomma avversari sicuramente validi contro cui andare a testare una carta del genere quali sono i pregi che ho riscontrato per quanto riguarda il buon Maximan allora sicuramente per quanto riguarda il 5 piede debole lo andiamo a sentire tutto perché per quanto riguarda destro-sinistro veramente non fa alcuna differenza sia per quanto riguarda la fase realizzativa per la quale vediamo una potenza tiro 97 che gli fa buttare veramente le porte a terra penalizzata un po' da una finalizzazione 83 ma per quanto riguarda il mio stile di gioco mi trovo sempre bene o male a calciare in zone tra virgolette di botta sicura quindi non ho avuto problemi in tal senso è veramente sottoporta, l'ho trovato efficace un'altra cosa che veramente è lodevole di questo Maximan a mio avviso è il fatto che è super agile e a tal proposito una seconda riflessione che questo secondo me più che da esterno rende benissimo in un attacco a 2 perché si gira che è una meraviglia, si gira in maniera davvero rapida fa dei drag back che sono la fine del mondo e destro-sinistro può scaraventare in porta la palla con entrambi i piedi aggiungendo un fattore di imprevedibilità che come sapete quest'anno è veramente fondamentale d'altra parte le statistiche parlano chiaro 99 agilità, 94 equilibri, 85 reattività, un hito, al metro e 73 un body type, perfetto non poteva che essere altrimenti tornando all'utilizzo che ne ho fatto io l'ho utilizzato da esterno da esterno il buon Maximan attenzione, è sicuramente molto 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 valido ma per quanto riguarda l'uso che ne faccio io ossia quello di sprintarmi tanto sulla fascia sto Maximan, il movimento che tanto io prediligo e del quale è uscito anche il tutorial sul canale dello Speed Boost con l1 e il tasto della corsa non lo fa bene o meglio, lo fa bene ma non sempre non... un po' come vuole lui e non c'è nulla per potergli far cambiare questa cosa perché quel movimento si fa sempre alla stessa maniera quindi o lo fa o non lo fa e sto Maximan spesso la palla gli rimane sotto e spesso non va via è anche vero che però quando va via lo fa bene perché chiaramente l'accelerazione 97, la velocità 97 è tanta tanta roba però a me non ha dato questa sensazione di esplosività in fascia che invece mi dà manettoti quindi qui torniamo al discorso di comparazione tra i due dunque manettoti io lo reputo per quanto riguarda il ruolo di esterno superiore a questo Maximan stiamo parlando comunque anche di una carta che costa un po' in più infatti costa un 600k in più non ha 5'5 ma è un 4'4 bene o male ad altezza siamo lì ma io vi assicuro che questo manè è molto più esplosivo vi dà una sensazione di rapidità con la palla tra i piedi è una sensazione di velocità supersonica quando veramente vi andate a boostare come faccio nel tutorial e come faccio solitamente che è pazzesco, è imprendibile poi agilità è anche secondo me un pelino più agile però per quanto riguarda le azioni in fascia perché per esempio per quanto riguarda dragback eccetera come si gira quel Maximan è superiore oltre che vi ripeto per quanto riguarda il paragone che ne faccio io è semplicemente per il ruolo di esterno perché ad esempio sto manè secondo me la punta non la può fare perché vuoi che abbia 4 piede debole e non 5 vuoi che nonostante abbia 99 di finalizzazione dovrebbe essere Cristo in realtà a mio modesto modo di vedere va a sbagliare un po' più di occasioni oltre che appunto siete meno imprevedibili avendo 4 piede debole il sinistro di manè non è propriamente questa gran cosa è già quel 4 piede debole forse puzzacchia un po' e potrebbe essere anche inteso un po' come un 3 quindi giudizio finale su Maximan diciamo se vogliamo andarlo a considerare su una scala da 1 a 10 per quanto riguarda il voto di esterno per l'uso che ne ho fatto io gli do un 7 e mezzo pulito per quanto riguarda invece l'utilizzo da punta gli do assolutamente un 9 pieno perché è un signor giocatore ma in parallelo ad esempio da esterno io ho un manetto ti do 10 totale pieno per me è veramente uno dei migliori esterni del gioco mentre da punta per esempio ho un manè gli do un 7 meno quindi per quanto riguarda potere d'acquisto se potete andare su un manè io vi straconsiglio di andare su un manè per quanto riguarda il ruolo di esterno secondo me quella differenza di crediti insomma è giustificata al massimo mentre se volete andare ad utilizzare invece un esterno che ho spostato in punta il mio consiglio è quello di andare sicuramente sul buon San Maximen e non ve ne pentirete nulla questo era il mio pensiero dopo aver provato questo giocatore e confrontato a quell'altro che è il manè che ho avuto per tanto tempo e spero che il video vi sia stato utile vi saluto vi ringrazio vi do appuntamento e live su twitch ogni giorno fino alle 16 e nulla qui con un prossimo video un saluto da l'altra peace un saluto da l'altra